Come ViciNet scioglie questo guscio che è di calcare? Così ViciNet scioglie tutte le incrostazioni e le impurità del water, anche quelle invisibili. Io da anni uso ViciNet tutti i giorni e ho un water sempre pulito come nuovo e con l'igiene ViciNet, l'igiene che mi lascia tranquilla. ViciNet, pulizia e igiene garantite ogni giorno.